L'Amazonia persiste nella cronaca internazionale, ma questa volta non tanto per i roghi che la consumano, diventa simbolo del pianeta in pericolo. Il suo paesaggio irrompe nell'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazonica, che si tiene in Vaticano dal 6 ottobre. Tema, nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale. Il relatore generale è il cardinale Claudio Hums, presidente per la rete ecclesiale panamazonica, che in conferenza in Vaticano ha esordito spiegando che il panorama ampio del Sinodo sono le urgenze della crisi socioambientale. Per quanto circostanziate siano le critiche dei settori più tradizionalisti della Chiesa Cattolica contro questo Sinodo, immaginare che il culto possa restare a pannaggio di un clero, come l'abbiamo percepito fino ad oggi, è pura utopia. Per le zone più remote della regione si studi, le parole sono pesate, si studi la possibilità di ordinazione sacerdotale di anziani, preferibilmente indigeni, rispettati e accettati dalla loro comunità. Tra i partecipanti al Sinodo spicca la presenza di 17 rappresentanti di diversi popoli indigeni, fra loro 9 donne.